Partiamo dalla fine di Un mondo a parte, ovvero dai titoli di coda che passano in rassegna con orgoglio e effetto il nutrito cast composto quasi per intero da non professionisti e da personaggi di pescasseroli e dintorni, proprio dove il film è ambientato. Ed è lì che ci porta fisicamente e tematicamente Riccardo Milani con il suo nuovo lavoro, in un piccolo borgo di montagna che deve affrontare le sfide della contemporaneità con tutte le difficoltà che queste portano con sé. Ed è un mondo a parte, appunto, in cui un Antonio albanese in gran forma deve ambientarsi e dove impariamo a provare lo stesso affetto del regista che traspare con evidenza e decisione nel corso della visione. Siamo a Ruppe, piccolo borgo abruzzese che conta meno di 400 anime. Ed è un luogo in cui chiede di essere trasferito Michele, insegnante con tanti anni di servizio a Roma, stanco ormai della realtà della capitale e affascinato invece da un'idea idillia che è idealizzata nel contesto di montagna. Ed è una visione questa destinata a scontrarsi con la realtà una volta ritrovatosi sul posto. È immerso quindi in un contesto più difficile, sfidante e problematico di quanto potesse immaginare, costretto ad adattarsi a una situazione nuova e comprendere le sfide che una piccola comunità di questo tipo è costretta a affrontare giorno dopo giorno. A cominciare poi dal trovare i numeri necessari per tenere aperta la scuola elementare locale in cui si trova a insegnare, sotto minaccia di chiusura perché non ha il numero necessario di bambini per giustificarne la presenza. Dove trovare quindi altri bambini per aumentare il numero di iscritti? Ruppe è ovviamente una località fittizia immaginata per far sfondo alla storia di Michele, ma l'ispirazione è reale e concreta, e si tratta del piccolo centro abitato di Hopi a due passi da Pescasseroli, dove appunto un mondo a parte è stato girato. E altrettanto reali sono poi le problematiche che Riccardo Milani mette in scena, cogliendo quindi l'occasione per sottolineare temi preziosi per il nostro paese. L'importanza di preservare i piccoli centri, la centralità dell'istruzione pubblica e di mantenere quel baluardo educativo, il conflitto tra la voglia di aprirsi a un mondo moderno che si muove su regole e con ritmi diversi ma senza trascurare il legame col territorio e far crescere la propria comunità senza essere costretti ad andare via. Milani poi lo racconta senza nascondere l'amore che prova per questi territori, lasciando si andare a esso e forse in un paio di sequenze un po' meno riuscite, esserne anche ostacolato nell'avere una visione obiettiva del risultato. Ma l'intento è comunque incomiabile e prezioso, e si traduce in un film che funziona nel suo complesso e che sa anche dialogare con efficacia con il proprio potenziale pubblico. Ed è un dialogo questo ottenuto con lo strumento della commedia, con un'ironia efficace a fuoco e ben veicolata dal lavoro di Antonio Albanese sul suo Michele. Sognatore è bisognoso di trovare il proprio spazio in un contesto meno frenetico e opprimente di quello romano, che dà vita a una prima parte dal sapore e dalle dinamiche da Benvenuti al Sud affidato alla mimica efficace dell'attore. Ed è buona anche la coprotagonista Virginie Raffaele, nei panni della vicepreside della scuola in cui Michele viene trasferito. Ma se funzionano bene i due attori protagonisti, altrettanto possiamo dire di tutto il magnifico cast di comprimari, che come accennato viene evidenziato nei titoli di coda. E sono quasi tutti abitanti della zona, principalmente di Pescasseroli, che diventano il vero valore aggiunto del film. Sono loro a caratterizzare infatti un mondo a parte e renderlo quel sentito omaggio che è, e sono loro a funzionare come perfette spalle per i protagonisti. Su tutti poi sono incantevoli i bambini che popolano la classe in cui insegna Albanese, perfetti nei tempi e nelle espressioni, e soprattutto nella capacità di dire con la necessaria spontaneità le battute richieste dal copione. Ed è merito evidente di Milani che su questo si è concentrato in particolare nel dirigere il suo mondo a parte, nel renderli quindi gruppo affiatato, nonché anima autentica del piccolo centro che è andato a raccontare. Voi cosa ne pensate? Vi ha convinto un mondo a parte? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie a tutti.